Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto in studio Alessandro Ranieri. Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato all'interno del camping Domus sul lungomare Da Vinci di Senigallia. Il rogo è stato segnalato nel primo pomeriggio del 5 gennaio intorno alle 14.30 sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme con i mezzi provenienti dai distaccamenti di Senigallia e Ancona. Il rogo ha avuto una portata piuttosto estesa. Tre roulotte sono andate completamente distrutte mentre altre due sono state parzialmente danneggiate dalle fiamme. Danneggiate anche strutture accessorie del camping. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. In preda ai fumi dell'alcol semina il caos al foranonario e poi minaccia di gettarsi nel fiume Misa. È stata una notte movimentata quella a cavallo tra venerdì e sabato a Senigallia nel cuore della movida inverniale. A rendersi protagonista dello show è stata una quarantenne senigalliese già nota alle forze dell'ordine per precedenti analoghi. Scontro nella notte a Serra dei Conti l'incidente attorno alle 23 e 30 del 6 gennaio lungo la strada provinciale 360 in via Busetto. Uno degli occupanti è rimasto incastrato nell'abitacolo dell'auto. C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118 per estrarlo. I vigili del fuoco hanno effettuato il soccorso e hanno poi messo in sicurezza le vetture incidentate. Vacanze di Natale da dimenticare per il rapper Sfera e Basta insultato su Instagram dai followers che avrebbero preferito il silenzio dopo la strage di Corinaldo. Non gli hanno perdonato i post pubblicati e soprattutto uno in cui dice che il 2018 è stato un anno pieno di emozioni. La fortuna riserva un piccolo regalo alla provincia di Ancona. Ieri sera sono stati estratti i biglietti della Lotteria Italia di prima e seconda categoria collegati alla trasmissione I Soliti e I Gnoti. Nel secondo lotto si trovavano i 50 biglietti che hanno vinto 50 mila euro. Tra questi un biglietto vincente è stato venduto a Ostra Vetere. Si è sbloccato il contenzioso tra privati e il cantiere della rotatoria della Penna può partire dopo un anno di stallo dovuto a contenzioso tra privati per via della bonifica da effettuare prima dell'avvio dei lavori. Finalmente l'intervento che porterà alla tanto attesa rotatoria che sostituirà l'incrocio semaforico può partire. Nei giorni scorsi tutti i soggetti privati coinvolti nella bonifica hanno sottoscritto l'accordo per la ripartizione dei costi e il cantiere si è finalmente sbloccato. Ladri di nuovo in azione a Sant'Angelo di Senigallia ma questa volta sono rimasti fuori. Sabato sera il proprietario si è accorto della porta danneggiata. Qualcuno aveva tentato di aprirla danneggiando il legno ma senza riuscire nell'intento. Colpo fallito. Il residente ha chiamato la polizia per riferire quanto accaduto. Gli agenti hanno fatto un sopralluogo in zona ma dei malintenzionati non c'era più traccia. Lo sport, il calcio di promozione termina con una sconfitta la prima stagionale. Il girone d'andata della Vigor Senigallia che sul campo di Ostravetere ieri ha ceduto 2 a 1 all'osimo stazione. La vittoria dell'Anconitana sul Valfoglia per 2 a 1 fa sì che ora la Vigor sia a meno 5 ma sempre al secondo posto in classifica. Con questo è tutto da Alessandro Ranieri. Buon proseguimento d'ascolto.